Ciao a tutti amici e amiche di Volonbrite, io sono Noemi, siamo qua oggi con la protezione civile per una città resiliente al Parco Le Vallette. Vi presento Dario, il cuoco del campo, che ci spiegherà un po' come funziona una cucina. Bravo. Allora, la cucina è facilissima. Al mattino si alza presto e alla sera si va a dormire tanto tanto tardi. Esattamente. Si fa il colazione prima di tutto, poi si prepara per pranzo e poi dopo c'è per cena. C'è un continuo via vai perché purtroppo è così. E come funzionano? Ci sono delle turnistiche? Come? No. No. In quanti siete a occuparvi una cucina? Adesso noi qua siamo in cinque, se no normalmente siamo in tre o quattro e poi c'è, praticamente dopo c'è le persone che servono a tavola perché noi serviamo a tavola, non facciamo se servi perché la gente deve mangiare caldo e deve mangiare pulito più che altro. Giustamente. E invece in una situazione di emergenza come funziona? Allora, in caso di emergenza io ne ho fatte tante, tante, tante. È più difficile perché non hai il materiale sempre uguale. Per esempio magari hai sei, sette tipi di pasta e quindi devi aggiornarti prima magari una a dieci minuti, l'altra a cinque minuti, l'altra a venti minuti, secondo. E quindi devi sapere dosare praticamente. Si fa sempre la precotta, così almeno non puoi sbagliare perché la fai cuocere in base a tutta la pasta che hai e quindi vai avanti. L'emergenza è più difficile di oggi, via. C'è un po' più problemi, via. Tutto quello. C'è anche più fretta? C'è anche più fretta perché noi quando eravamo giù a Varisciano, quando c'è tanto il terremoto in Aquila, noi facciamo 1200 pasti in un'ora e mezza, diciamo. E quindi lì non devi sbagliare. E l'umore com'è? È alto o c'è il nervosismo? Perché se ti prende il nervosismo stai a casa. Il volontario che viene e gli prende il nervosismo è meglio che stia a casa. Giusto. Perché tante volte è il volontario che porta gli altri a certe cose. No, non va bene. Il volontario deve essere sempre col sorriso e la buona parola e più che altro cercare di fargli vedere agli altri che sei più in gamba e che ce lo fai per loro. La disponibilità. Allora grazie Dario. A te e alla tua cucina. Ciao. Ciao. Ciao.